complimenti al VAR e a tutti gli arbitri che tengono a galla i ratti milanisti sodomizzati ok perché con la vittoria ci bastava solo un pareggio nel nel derby per la seconda stella adesso dobbiamo sodomizzarli per forza come negli ultimi cinque derby dobbiamo distruggerli furto scandaloso stasera in intercaieri furto scandaloso scandaloso il 2 a 2 del Cagliari viene da un tocco di braccio cioè gli fa l'assist di braccio la padula viola che tira e fa il 2 a 2 una roba che con il VAR ragazzi è inaccettabile i tempi del VAR è inaccettabile perché il gol viene da un assist fatto col braccio cioè un qualcosa o Marelli Marelli di Dason che è contro l'Inter lo sappiamo tutti Dason rete praticamente di Juve e Milan da sempre Marelli va sempre contro l'Inter appena può a sto giro manco Marelli ha potuto ha detto ovviamente in telecronaca che che il gol era da annullare 2 a 2 non fa niente non fa niente vinceremo comunque nella prossima partita nel derby sodomizzeremo i ratti serve la vittoria e andiamo a vincere e andiamo a vincere e andiamo a vincere state tranquilli andiamo a vincere detto questo la partita di stasera vede anche delle nostre colpe perché è un 2 a 2 in in casa che io lo sapete nonostante il pareggio ve l'ho detto è completamente da annullare comunque comunque ti sei fatto sorprendere due volte dal Cagliari io giusto oggi vi avevo per il culo eh i ratti che ne hanno prese tre da Sassuolo ma stasera noi due gol dal Cagliari vabbè che uno andava annullato ma non bisogna farsi sorprendere la differenza fra noi e loro è che noi abbiamo la miglior difesa del campionato e ci stiamo rilassando adesso loro è tutto l'anno che prendono con la valanga perché sono scarsi noi abbiamo semplicemente un calo di tensione mentale lo si è visto nelle ultime partite non va bene perché dobbiamo andare a vincere questo campionato e il plus sarebbe vincere io in faccia oggi ci siamo giocati la possibilità di vincerla anche con un pareggio e questa cosa mi urta un po' detto comunque la mezza figuraccia di fare un pareggio in casa con il Cagliari che è una squadra praticamente retrocessa ma luccio tutti ma luccio tutti non mi sono piaciuti stasera i nostri ragazzi nessuno eh nessuno partendo da Sommer che sul primo gol la tocca anche ma ci va un po' troppo molle bastoni e da cerbi si fanno sorprendere sul primo gol quel lancio lì eh non deve esistere che la padula la stop eccetera e dallo scarico l'uombo scusate l'uombo la stop e dallo scarico a Shomurodov che tira tranquillo lì l'uombo non deve fare quella giocata a cerbi e bastoni devono giocare molto meglio in difesa eh hanno sbagliato parecchio eh anche bastoni in impostazione stasera male 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 anche se era stato uno dei migliori poi eh il mezzo infortunio ad essere rientrato e non è rientrato bene a cerbi si è fatto uccellare non solo sul primo gol anche sul secondo perché sul secondo comunque eh viola gli passa davanti eh scusate la padula gli passa davanti poi col braccio da l'assista viola ma comunque non lo deve far passare davanti in quel modo a cerbi cala di forma anche lui eh insomma porca porca puttana Bissec male anche lui in impostazione anche in difesa un po' un po' troppo un po' troppo molle un po' troppo svagato ha buttato via qualche pallone che poteva non buttare ciala eh è sempre un merito segnare arrivata a undici gol rigore glaciale anche se per te la stava pigliando però comunque è entrata per il resto ciala da che è rientrato dall'infortunio anche lui ancora non abbiamo visto il ciala della del del pre infortunio del di prima della fine dell'ottavo con l'atletico quel ciala non l'abbiamo rivisto più anche oggi passeggiava abbastanza in campo poche aperture pochi cambi di campo pochissimi rispetto ai suoi standard Barella Barella ci ha provato lui sapete ci mette sempre il cuore Nicolino ma eh un po' impreciso un po' impreciso Mkhitaryan è stato fatto uscire proprio nel momento in cui è uscito hanno fatto il gol del l'1 a 1 a mio avviso in Zaghi eh una volta sotto cioè una volta preso l'1 a 1 non l'avrebbe mai tirato fuori Michi eh ragazzi sono il primo a dire che Michi deve riposare il problema è che poi quando riposa gli equilibri un po' saltano finché lui era in campo non non ho visto azioni pericolose del Cagliari appena uscita abbiamo preso gol e dopo comunque hanno fatto due azioni pericolose compreso con il pareggio che ripeto la da annullare cose scandalose di Marco impreciso stasera e poi ragazzi non vedevo mai mai servire Turam in profondità cioè tutte le volte che Turam scattava non veniva mai servito in profondità e questa è colpa in primis di Bastoni e Ciala che sono i deputati a farlo ma anche gli Darmian che i vogliamo tutti bene lo ripeto come un mantra ma eh in fase propositiva non ce l'ha non ce l'ha anche oggi totalmente inutile in fase propositiva io non capisco perché non abbia provato Dunfris poi è vero che Dunfris anche lui è in calo allora è in calo allora metti più cano ragazzi più cano hanno condensato è stato forse migliore in campo ha sempre provato a saltare l'uomo e ci è riuscito quasi sempre ha messo pallone in mezzo eh io a sto ragazzo darei un po' più di fiducia le punte Sanchez il primo gol praticamente è merito suo perché fa una bellissima un bellissimo movimento lo serve se non va derato barella lui fa un movimento a tagliare palla in mezzo deliziosa per Turam che arriva e la mette in porta e non abbiamo più visto Turam perché Turam dopo il gol che è arrivato praticamente subito scomparso dai radar ha segnato ha si è sbloccato ha chiuso il digiuno da gol che durava dal febbraio ma continuo a non vederlo in forma continuo a non vedere il Turam devastante della prima parte di stagione ovviamente c'è un motivo gioca troppo ha giocato troppo gioca sempre lui con Lautaro però ragazzi mancano gli ultimi sforzi non dobbiamo mollare dobbiamo recuperare quel Turam lì eh Sanchez ripeto ha fatto quel bellissimo assist poi ha provato a fare qualcosa ma eh Sanchez il problema è sempre quello ragazzi tecnica rimane sopraffina ma non si butta in aria se pochissime volte e ha un'età ha un'età e ovviamente c'ha mezz'ora poi basta eh infatti è uscito è entrato Arnautovic io non lo commento più sto sto giocatore totalmente inutile non ha preso una palla o non ha difeso una palla non ha fatto un tiro in porta non ha fatto un assist niente totalmente inutile eh frattesi è entrato con Mkhitaryan stavolta non ha segnato ma non è sempre festa non è che può sempre entrare e segnare ci ha provato anche lui ma non è andata bene eh Dunfris che è entrato anche lui l'ultimo quarto d'ora per Darmian un po' avulso abbiamo abbiamo giocato male anche Carlos Augusto niente ragazzi noi abbiamo verticalizzato poco è vero che loro si chiudevano però c'erano delle volte che si poteva verticalizzare che Turam chiamava la profondità e non è stato mai servito io non capisco perché non capisco perché questa svagatezza in difesa concediamo gol il primo gol ragazzi assurdo è un lancio da 50 metri eh la eh l'umbo la stoppa a Cerbia una marcatura leggerissima praticamente non l'ha marcato scarico per Schormorodo che arriva queste sono cose che non è un evidente calo mentale di rilassatezza però ragazzi non c'è ancora la matematica ma perché ci dobbiamo complicare la vita oggi facevi due tre punti e poi ti bastava un pareggio coi ratti adesso devi battere per forza e avendo un calo spaventoso di energie siamo stanchi lo si vede anche mentalmente siamo restati troppo non sarà così una passeggiata nonostante loro siano dieci livelli sotto di noi però sai loro giocheranno alla morte per non farci festeggiare in faccia a loro noi siamo stanchi i nostri top top non sono in forma perché c'ha anche Lautaro che oggi non ha giocato perché l'ha scarificato ma anche Lautaro ragazzi ha digiuno da colla anche lui è stanco Turam di Marco stesso un po' troppo impreciso insomma Cerbi l'ho detto Sommero oggi errore non ci siamo non ci siamo dobbiamo riprendere la mentalità di ferro che abbiamo un po' mollato parleremo di tutto nel post partita quindi questo video uscirà io già sarò in live post partita venite perché commenteremo tutto le parole di Inzaghe eccetera approfondiremo tutto quanto mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti e subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live live che appunto faremo in contemporanea con questo video il tempo che esce io già inizierò ad andare in live post partita comunque ragazzi state tranquilli perché lo scudetto lo vinciamo uguale era ancora meglio vincere nel derby e potremmo farlo ci basta batterli lo sappiamo benissimo come farlo sono inferiori ma dobbiamo dobbiamo tornare con quella grinta con quella voglia e con quella concentrazione mentale che ci è un po' mancata nell'ultimo mese detto questo il nostro solito salute latino vide te mox forza inter sempre amala e ratti state tranquilli che vi sodomizzeremo di nuovo al derby tranquilli grazie a tutti grazie a tutti